Ben ritrovati, salve, un caloroso saluto a tutti e a tutte da Simonetta. Anche oggi ci ritroviamo sul canale per apprendere un lavoro magico, un rituale magico, molto utile, molto utile in quanto andrà a lavorare sulla coppia quando ci sono energie contrastanti, quando ci sono energie negative che possono ovviamente interferire nel buon andamento della coppia. Perciò sappiamo che l'energia negativa quando si attacca provoca un sacco di problemi, provoca anche litigi, separazioni, freddezza, scontro. Quindi andiamo a rimuovere questa energia negativa, andiamo a riportare armonia nella coppia. Allora, cosa serve? Prendete una bottiglietta, una bottiglietta di queste dimensioni, poi se volete usarla più grande non c'è alcun problema, e mettete dentro la bottiglietta, mi raccomando, una bottiglietta ben lavata, ben pulita, oppure una bottiglietta nuova di acqua, chiaramente voi vedete che io ho già messo l'acqua, fino più o meno a questo punto, qualcosa del genere. Quindi o usate dell'acqua nuova in bottiglia, oppure se avete una bottiglietta in casa, la lavate molto molto bene e poi la riempite di acqua fino a un certo punto, lasciando uno spazio. Altra cosa importante che serve è sale grosso in cristalli, ovviamente il sale grosso, sale marino, qualunque marca chiaramente va bene, sale grosso. Questo è anche un sale abbastanza particolare perché arriva dalla Sicilia, è un sale a grani molto grandi. Poi quello che serve è un fogliettino di carta, un fogliettino bianco, senza linee, senza punti, perché le linee, i punti, i quadretti ostacolano l'energia. Ecco perché usiamo fogli completamente bianchi. E una penna o una matita rossa di questo colore, perché il rosso ha un'assonanza con la passione, con l'amore. Quindi questa volta usiamo la penna rossa. Allora, non è che serve un foglietto grandissimo, possiamo anche fare a metà con questo. Lo tagliate con le mani, tranquillamente. Allora, prendiamo un fogliettino di carta, andiamo a scrivere il nome, il cognome e se l'avete la data di nascita della persona con la quale ci sono i problemi, con la quale o non vi sentite più, o avete litigato, o avete rotto il rapporto, eccetera. Quindi mettiamo che io scrivo Claudio, Claudio Prati, facciamo questo nome qua. Claudio Prati, nato il 10 agosto 1989. Ovviamente è un nome di fantasia. Questo lavoro può essere fatto donna per uomo, uomo per donna, donna per donna e uomo per uomo. Non ci sono problemi. Quindi può essere fatto senza alcuna limitazione. Noi andiamo a scrivere una volta sola il nome, il cognome, se l'avete mettete anche la data di nascita con la penna rossa e poi pieghiamo il foglio verso di noi tre volte, quindi dalla parte vostra. Pieghiamolo tre volte, uno, due e tre. Quindi lo pieghiamo in questo modo. Prendiamo la bottiglietta con l'acqua. L'acqua chiaramente cosa simboleggia? Simboleggia la trasmutazione, il cambiamento. Il cambiamento delle cose, il trasmutare delle cose, il rovesciare una situazione, in questo caso, da negativa a positiva. Mettiamo dentro il foglietto, dentro la bottiglietta e poi prendiamo il sale e aggiungiamo dentro un pochino di sale grosso. Ora io faccio così a mano perché potete usare un cucchiaino, vedete voi. Mettiamo dentro alcuni pizzichi di sale. Il sale ci servirà per purificare da tutte le forme negative, da tutte le energie distruttive, da tutte le energie brutte che impattano sulla coppia. Il sale tirerà via, porterà via le negatività e andrà a purificare la coppia. Ecco, così, io ho messo alcuni pizzichi. Non ne serve poi moltissimo, ne serve una quantità abbastanza piccola. Si tappa la bottiglietta e si agita la bottiglietta pensando intensamente alla persona in modo molto, molto positivo e dicendo così come questo sale si mescola all'acqua, si unisce all'acqua, così io e dite il vostro nome e tu e dite il nome della persona saremo uniti per sempre. Quindi, ripetiamo, così come questo sale si unisce, si mescola a questa acqua, così io dite il vostro nome e tu, in questo caso abbiamo messo Claudio, Claudio saremo uniti per sempre. Lo dite tre volte, mentalizzando molto bene la persona in modo estremamente caloroso, positivo, come se la persona già è lì da voi, come se la persona è già cambiata, fosse già cambiata, diventando amorevole, disponibile, senza rabbia, senza rabbia, senza freddezza, senza distacco. Quindi, per tre volte, così come il sale si mescola, si unisce all'acqua, così io dite il vostro nome e tu dite il nome dell'altra persona saremo per sempre uniti. A questo punto, con la bottiglietta che deve essere ovviamente ben chiusa, voi mettete questa bottiglietta in un luogo della vostra casa tranquillo, può essere sopra un armadio o anche dentro un armadio, dentro una mensola, in un posto comunque dove non sia vista da nessuno, dove nessuno la possa toccare né vedere e la lasciate lì tranquillamente per il tempo che serve. In genere è un lavoro molto rapido, passano pochi giorni, a volte passano addirittura poche ore, però ognuno di noi, ricordate, è un'energia diversa, una storia diversa, per cui i rituali, piccoli o grandi che siano, richiedono un tempo che varia da persona a persona. Voi lasciate la bottiglietta così fino a quando non avete risultato, fino a quando la persona ovviamente non si sblocca, non vi cerca, non vi parla, fino a quando la persona non viene da voi, chiaramente in modo positivo. Allora a questo punto, quando la persona è arrivata da voi, potete riaprire la bottiglietta e andare a gettare il contenuto, l'acqua in definitiva, poi se esce il foglietto va bene, non c'è nessun problema, o in un luogo naturale, quindi fuori di casa, nel solito prato, nel solito orto, siepe, oppure pianta, oppure albero, se non avete la possibilità o non avete verde da nessuna parte, potete buttare questa acqua anche nel lavandino, la bottiglietta poi si butta via insieme al foglietto perché già tutto ha dato esito, quindi l'energia ha fatto il suo corso. Con questo lavoro, che è molto semplice, che tutti potete fare, e soprattutto, ecco, arriviamo a dire una cosa abbastanza frequente, si fa in qualsiasi giorno, in qualsiasi lunazione, non importa la luna, in qualsiasi orario. Quindi lo fate quando vi sentite bene, vi sentite carichi, cariche, vi sentite convinti, vi sentite in uno stato d'animo molto positivo, perché bisogna anche lavorare con grande fede, grande positività. Non dovete avere dubbi che il rituale darà esito, non dovete farvi domande, funziona, non funziona, questo distrugge l'energia di qualsiasi lavoro, il dubbio. Il dubbio, l'incertezza, distruggono come ondate di energia negativa l'esito di molti rituali, perciò date per scontato che tutto sarà risolto nel migliore dei modi. Vi ringrazio per il momento, se volete aiutatemi a far crescere il canale con i like, oppure iscrivetevi al canale, così avrete via via l'avviso per ogni video che carico. Grazie per la vostra presenza, ancora, buon lavoro, tanto esce, tanta energia a tutti.